Ma con chi abbiamo pareggiato, ma con chi abbiamo pareggiato, porca di quella puttana, ma con chi abbiamo pareggiato, con Lecce, con Lecce che merita solo di andare in Serie B, merita andare, da come ha giocato stasera, pezzi di merda, peggio del Verona, non ci credo, non ci credo, ed è giusto così, giusto così, perché è inutile fare un primo tempo, ho fatto bene, se poi non chiudi la partita, e poi mi sbagli pure i cambi, mi hai sbagliato tutti i cambi, Sì, ennesima, ennesima prova, ennesima prova, ma che abbiamo pochissimi giocatori buoni che fanno la differenza, pochi, da contare sulla dita di una mano, ma neanche, su mezza mano, tre buoni ne abbiamo, tre, tre buoni ne abbiamo, tre in croce, Hernández, Hernández, Leao e Piontek, scusate, e Paquetà, scusate, e Paquetà, cosa fai a mettere fuori, Leao, Paquetà, e che cazzo, non giochiamo più, non giochiamo più, Ma se vedi che inizi il secondo tempo, a parte che non vuoi sapere cos'è, cosa gli abbia detto il secondo tempo, tra il primo secondo tempo, ma la chiuderai sta cazzo di partita, la devi chiudere, metti dentro una punta, no, ma aspetti che ci faccia un gol per mettere dentro la punta, non lo so io, dai uno segnale alla squadra, la segnale a tirar fuori Paquetà, tirar fuori Leao, ma che cazzo fai, ma che cazzo fai, Poi Conti, Conti, che per carità, sicuramente non è peggio di Calabria, ma porca troia, salta, così, come coi polcini, coi polcini, ai polcini facevo sti errori qua, io facevo così, colpo di testa a mano, ma porca di quella troia, ma saltare così, ti hanno insegnato al Milan, cazzo, ma io non so, ma non lo so, non capisco, Ma io sclero, sclero, due a due, pareggio, con uno scarper, con uno sinistro, dall'ultimo minuto, quando era, al novantunesimo, col mancino di uno scarper, di uno scarper, ha tirato una ciappa del solito sinistro, che non tirerà mai più nella sua vita, ha fatto gol, perché? Perché non la chiudiamo prima, perché non la chiudiamo prima, per una volta che Ciannavolo ha fatto una partita di Cristo, Ed era anche, ed era anche normale, cazzo, dopo due settimane, dopo sette partite assurde, che cosa facciamo? Vuoi che al primo tempo non lo giochiamo bene? E che cazzo? Era d'obbligo, era d'obbligo, io non è che mi stavo emozionando, mi stavo emozionando perché vedevo, l'unica roba che per me che mi emozionavo era vedere Pagetà che faceva qualcosa, leao, e il Milan che andava sul fondo, questo mi stava emozionando, non perché come stavamo giocando, perché un gol sì, ok, ma non dovevamo chiuderla, Era ovvio che dopo due settimane dovevamo giocare bene, almeno il primo tempo, dare una reazione, visto che la Curva Sud ha deciso di stare zitta, giustamente perché i tifosi sono sempre noi a prenderla nel culo, mai i giocatori E poi andiamo a pareggiare due e due con Lecce, con Lecce, intriga a salvarsi Lecce, che gioca di merda, ha giocato tutta la partita, come vuoi che giochi, una neopromossa a San Siro, gioca così Poi, poi, perdevano tempo, non perdevano tempo, hanno perso, hanno fatto pure gli antisportivi, gli abbiamo buttato fuori la palla, sono andati a riprendersela a giocare, questi pezzi di merda E Pasqua, quel cazzo di arbitro, li lasciava anche fare Dai, zio cazzo Questa è la dura legge del gol, del calcio, la legge del calcio, se non fai gol, la prendi nel culo, gol sbagliati, gol subiti Cioè, è una roba assurda Una partita, giocata bene, un primo tempo, buttata via, perché secondo tempo ci siamo arresi Siamo arresi e hanno detto, buon dai, 1-0, finita Ma è ovvio, ma è ovvio, finché giochi con Biglia, finché giochi con Cassi, finché giochi con Suso, porca di quella troia E poi mi sbagli i cammi, mi tiri fuori due meglio in campo, ma vai a fare in culo, vai a fare Guarda Pioli, ti do ancora una fiducia, tanta fiducia così ti do, tanta ancora fiducia così ti do Pioli, un tanto così Alla prossima partita con la Roma Che poi vedremo, perché anche lì a Roma ogni volta è sempre un casino Ma questa sarà una roba di settimana prossima Cioè, 2-2 con Lecce Che poi, molti scriveranno, eh, ma la classifica, era importante vincere la classifica Non me ne frega un cazzo di vincere la classifica È la ottava giornata, cosa cazzo me ne frega adesso la classifica Cosa me ne frega? Mi frega che abbiamo pareggiato con una squadra di merda Giocando un secondo tempo di merda Ed è giusto così, giusto così Perché non si può vincere una partita con gente che in campo cammina Come Chessy, come Suso, come Biglia che ha fatto cazzata a non finire Come Conti, che porca di quella troia non sa difendere Non sa difendere E quel cazzo di portiere, quel cazzo di portiere che mi aveva anche parlato in rigore Ma di testa, guardate le partite, di testa non c'è Non vedete che è stupido, è stupido Io non ho mai visto un portiere con quei pieghi dacci che c'ha Non sa fare un lancio 4 su 5 gli sbaglia i lanci C'è una roba assurda, prende e le tira fuori Se esce, non è che tira il pallone, cioè sta arrivando l'attaccante e lui esce Non è che il pallone lo butta fuori laggiù Lo butta fuori davanti, così loro battono subito E lui deve ancora tornare in porta Proprio l'intelligenza di Donnarumma Ma tra lasciando Donnarumma Sta storia dei campi, io non mi va giù Non mi va giù Ma sei il mister Ma cazzo Poi sta roba dei calci d'angolo Una roba assurda Suso Ma porca di Perché li batte Suso? Perché Suso batte i calci d'angolo? Ma in allenamento Vedranno porca di quella troia Che fa cagare Ma lo vedranno Fa schifo Non sa battere i calci d'angolo Non li tira né forte E né precisi Li tira tutti di merda Tutti dal cazzo Putere pure le punizioni Perché li batte tutti e due? Ma porca di quella troia Poi sui calci pazziati Figurati se facciamo No guarda Veramente è una roba assurda Assurda Inconcepibile 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 come abbiamo pareggiato sta partita Ed è giusto così Ripeto Ripeto Giusto così Giusto così perché impari Anche l'allenatore Visto che Eh no ma appena arrivato Tanta fiducia così gli do Tanta fiducia così Perché non è possibile Che cazzo ogni allenatore C'è sempre quel cazzone Di su C'è sempre gli stessi in campo Sempre gli stessi in campo Porca di Porca di quella troia Poi hai tirato fuori Che si stranamente abbiamo fatto gol Ma robe mai viste Crunic Che mi è anche piaciuto Porca di quella troia Ma porca troia Vedi che hai fatto un primo tempo bene E siamo sull'1-0 Ma gli tirerai E gli dirai Cazzo dobbiamo fare il secondo Dà un segnale alla squadra Primo o secondo tempo Stanno giocando male Dà un segnale alla squadra Ma non mi puoi tirare il segnale A tua squadra Non può essere Tirarmi fuori Pacchettà Pacchettà Mi tiri fuori Il miglior Il miglior giocatore Tecnicamente Che abbiamo in campo E mi nasce dentro Quello scarper di Suso Ma piuttosto Ma tu non puoi anche dire Che non abbiamo le riserve Piuttosto buttami dentro Un Borini Buttami qualcun altro Che giochi di là Io non lo voglio più Vedere quel bastardo Anche oggi Abbiamo rischiato Di prendere un calcio di rigore Che poi Subito dopo C'è stato Su un Palle perse Di Suso Ma robe assurde E poi bigria Lento Come mia nonna E che si pure Ma robe da matti Robbe da matti Sempre stessi errori E anche questa volta L'abbiamo preso in culo Contro una squadra di merda Perché? Perché sbagliamo i cambi E camminiamo in campo E c'è sempre la solita gente Che gioca E c'è sempre la solita Gente che non ha voglia Di fare un cazzo Vaffanculo Pareggio con Lecce Pareggio con Lecce In casa Vate affanculo Andate Vi meritate lo stadio vuoto Vi meritate